Proseguono gli appuntamenti con la canzone d'autore all'Isola ritrovata di Alessandria. Questo sabato arriva un cantautore importante, lui si chiama Tiberio Ferracane, qualcuno magari l'avrà già visto sul palco dell'Isola in occasioni varie. Arriva questo sabato a presentare uno spettacolo molto particolare, o meglio un insieme di alcuni spettacoli messi in scena nel corso degli anni. Noi abbiamo Tiberio Ferracane ospite di questo pomeriggio. Buon pomeriggio Tiberio e benvenuto a Radio Gold. Ti ringrazio Giorgio per l'invito. E' felice di ritornare dagli amici nell'Isola sabato. Prima di parlare del concerto di sabato volevo chiederti una domanda su una cosa che tu stai organizzando a Torino, molto interessante sempre per quanto riguarda la canzone d'autore. Avete messo in piedi con un altro cantautore molto conosciuto che è Federico Sirianni, una specie di duello a due, che voi giustamente chiamate duel, in cui i due cantori si confrontano e si scontrano in una serata. Raccontaci com'è nata questa idea e come si svolge la serata. Ma guarda, in realtà tutto questo è di finale del gioco, nel senso che io e Sirianni un giorno ci siamo sfidati per il gioco, perché abbiamo due stazioni musicali diverse, e abbiamo detto guarda, sfidiamoci e come non succede? Poi abbiamo pensato che era molto carino, era molto bello allargarlo, soprattutto alle nuove leve, visto che noi non cominciamo ad essere decani. E quindi abbiamo messo su in piedi questo contest che è partito ormai già da gennaio. Abbiamo avuto iscrizioni da tutta Italia, questo ci ha colpito e devo dire con un livello qualitativo decisamente molto alto. Cosa interessante è che i ragazzi e comunque gli artisti che si sfidano sul palco in autonomia hanno la possibilità di gestirsi sul palco e hanno uno spazio che sono tre brani propri, una cosiddetta cover più una storytelling e ancora un altro brano. La giuria popolare, il pubblico, dà la sua preferenza alla fine delle tre manche con dei cartellini rossi e blu che noi diamo prima dello spettacolo e poi c'è una giuria di qualità, una giuria tecnica che per l'alto 60% indica poi e quindi qualche volta può anche ribaltare il voto del pubblico. Chi arriva in finale e la finale sarà il 19 giugno, credo, alla Olten, se non ricordo bene il giorno esatto, vanno di diritto alla serata finale il miti dell'etichetta dipendente di San Giorgio. Che è una vetrina non da poco, qual è il giudizio che dai su queste nuove leve della canzone Dottore Italiana vedendoli lavorare in questo modo? Guarda, è interessante vedere come la varietà, intanto c'è proprio fra i giovani questo studio dei maestri, spesso ti trovi veramente con delle nuove leve dove hanno preso a piene mani, devo dire, tutto quello che è la scuola della musica d'autore italiana. Per conto trovo anche molto interessante il nuovo linguaggio, un nuovo modo di porsi, sono tutti molto preparati anche perché tieni conto che noi chiediamo agli artisti di accompagnarsi, quindi noi non vogliamo basi, non vogliamo sentire assolutamente parlare di nient'altro che non voce e strumento e lo fanno da soli, quindi in genere sono anche molto preparati, devo dire. Veniamo al tuo spettacolo, tu in questo periodo hai in piedi uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno, molto complesso, una parte, se non sbaglio, di questo spettacolo verrà anche presentato questo sabato all'Isola Ritrovata. Raccontaci intanto come è nata l'idea di portare in scena Modugno, come hai scelto le canzoni e che veste hai dato a queste canzoni. Modugno era un sogno nel cassetto che restava da tanti anni, è uno di quegli autori che non puoi non avere come punto di riferimento. Mi sentivo parlare molto tra mio padre che aveva avuto la fortuna di vederelo dal vivo negli anni d'oro della sua carriera e io ovviamente seguivo, ho cominciato a studiarlo, ad ascoltarmelo con l'attenzione di chi vuole imparare. Quindi tre anni fa ho messo sullo spettacolo, in realtà percorro 21 anni di carriera di Modugno che va dal 55 al 76, quindi per capirci da vecchio frate a malalazza e racconto anche un pezzo di vita italiana, cioè cosa succedeva in quegli anni mentre Modugno componeva dei capolavori che poi invasero tutto il mondo. Sotto l'aspetto tecnico abbiamo deciso insieme al maestro Silvano Borgatta di dare un taglio della struttura identico cambiando ovviamente gli arrangiamenti a nostro gusto, ma i brani sono sempre riconoscibili e soprattutto hanno una struttura identica, quindi l'intro, la strofa, il ritornello, il bridge, perché la grande forza di Domenico Modugno era proprio la struttura delle canzoni dal nostro punto di vista e quindi non abbiamo voluto assolutamente snaturare questa, diciamocelo pure, questa sua genialità. Oltretutto era anche un attore pazzesco, è stato veramente un artista tutto tondo a 360 gradi. Questo sabato darai modo agli ascoltatori che verranno all'Isola ritrovati di ascoltare un pezzo di questo spettacolo. Come si completa la scaletta invece del concerto di Sabato all'Isola? Dunque, lo spettacolo di Sabato, autoironizzando sulla carriera dei musicisti, l'ho chiamata 25 anni di non carriera, perché spesso facendo questo mestiere arrivi a 50 anni, come sono arrivato io, e sembra quasi che tu non abbia fatto nulla. In realtà hai fatto molto, hai studiato, hai lavorato, hai girato, hai avuto anche delle grosse soddisfazioni. E quindi c'era il piacere di raccontarmi attraverso le canzoni e gli album che sono usciti dalla mia produzione personale. Di Modugno farò un trio, tre brani all'interno, così come farò qualcosa di un altro spettacolo a cui sono molto legato, che è fatto da un libro di Mario Minasi, grandissimo manager, coach italiano, di grandissimi artisti, scomparso due anni fa, che si chiama Quanto mi dai per Andrigo? Dove quindi ci sarà anche qualche brano di Andrigo, accompagnato da racconti, io ho molto raccontato di una storia familiare particolare, nella famiglia nasce a Tunisi, quindi sono di cultura franco-araba-siciliana, poi tra l'altro, quindi mi racconto anche il cavolo delle cose magari un pochino più personale. Ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo 50 anni di non carriera di Tiberio Ferracane, questo sabato all'isola ritrovata di Alessandria in via Santa Maria di Castello 8, grazie a Tiberio Ferracane che ci ha presentato lo spettacolo, buon lavoro e buon tour. Grazie Giorgio, è stato un vero piacere, permettimi di ringraziare i tuoi ascoltatori che per un momento oggi sono sicuramente anche miei, grazie.